Se vuoi rimproverare qualcuno, vedi prima se tu non sia come lui, e se lo sei, piangi insieme con lui, non pretendere che egli ti obbedisca, ma comandagli e amoniscilo che insieme con te si sforzi di emendarsi. Se invece non sei come lui, ricordati che forse lo sei stato in passato o saresti potuto esserlo, e quindi sii indulgente e rimproveralo non spinto dall'odio, ma dalla misericordia.